Ciao a tutti, sono Renato Greco, dall'Italia. Mi occupo di musica con una forte matrice brasiliana da sempre. Ho costruito e portato avanti per tanti anni il progetto gruppo Nostra Almacante, un progetto sia discografico che di live. Ora sto riprendendo in mano dopo 15 anni questo lavoro. È un onore far parte di questa comunità, ringrazio Franklin Mano per l'invito e ho un forte legame con il Brasile e con artisti con i quali ho lavorato, ho scritto, ho suonato e che sono soprattutto i miei amici. Un abbraccio a tutti.